Saluta la categoria lieve a modo suo con una volata imperiosa, la porta colore della Valkar PBM, Miriam, invece, che è affiancata dalla compagna di squadra Silvia Persico, si impone per la terza volta in quattro anni sul traguardo di Monza. Gara movimentata ma dalle pochissime partenti, sul circuito pianeggiante da ripetere sei volte. Ci sono attacchi e contrattacchi, scatti, allunghi, ma andare via sugli infiniti rettilini è davvero molto dura. E allora l'epilogo è il classico sprint finale con le due blufucsia che entrano sparate nell'ultima curva. Per la Vece è la vittoria numero quattro, per la Persico l'ennesimo podio, terza l'ottima Angela Filippini del Cadeo Carpaneto, una delle più interessanti, classe 1998 d'Italia con tre vittorie all'attivo nel 2013. Ma ascoltiamo le parole della vincitrice Miriam Vece raccolte dal nostro Fabiano Ghilardi. Miriam Vece prima sul traguardo di Monza, una gara che ti piace, è già la terza volta che metti il tuo nome nell'albo d'oro. Raccontaci la volata. Beh, le mie compagne hanno fatto un grandissimo lavoro, mi hanno tirato tutto l'ultimo chilometro facendomi entrare prima all'ultima curva e niente, qui negli ultimi 200 metri ho dato tutta e ce l'ho fatto. A chi la dedichi questa vittoria? A tutta la mia squadra, a tutte le mie compagne che mi hanno aiutato tantissimo, i miei DS, la mia famiglia e alle persone che mi vogliono bene.